B-Fire produce una lastra per esterni base gesso chiamata Aquaglass. Aquaglass è definita come lastra a base gesso fibro rinforzata. Infatti, come vediamo dal manuale, è marchiata CE secondo la norma EN 15283. Ha caratteristiche di resistenza agli impatti e quindi è classificata come tipo I. Ha un alto modulo di resistenza, quindi è classificata come tipo R. Resiste alla fiamma e quindi è una lastra classificata anche come tipo F. E ha tutte quelle caratteristiche di impermeabilità e resistenza all'esterno. Infatti, è una lastra che può essere utilizzata per tutte quelle installazioni in ambiente umido, fortemente umido interno, ma anche direttamente in facciata per la costruzione di velette, di gronde, pensiline, ecc. Aquaglass è una lastra che unisce la durezza superficiale alla grande flessibilità. Una delle sue caratteristiche principali rispetto al resto del mercato è la sua grande lavorabilità e leggerezza. Infatti, è una lastra che non arriva a 9 km2 e ha un importante raggio di curvatura molto piccolo. Tutte le caratteristiche e le procedure di posa le potete trovare nel manuale che è scaricabile dal sito www.befire.it e lo trovate insieme al manuale Aquafire e SuperSeal, cioè quello che noi chiamiamo catalogo bianco o per l'acqua. Grazie a tutti.